Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro blog, Apple Blog Allora, oggi volevo tralasciare un attimo la Apple e non fare un Apple Blog E fare un blog normale per tutti gli appassionati di moto Perché? Mi sono appena alzato quindi dovete capire che non ho una faccia È un aspetto molto... l'ho fatto, ho lavorato di notte, sono andato a letto stamattina alle 8.30 Sono le 3.30 adesso Allora, perché? Perché io ho in realtà un April RS50, come tutti voi sapete E oggi devo andare a ritirare la mia nuova moto Non vi dico che cos'è, però intanto contemporaneamente mi è arrivato questo bel pacco Da abbigliamentomoto.it Con ovviamente dell'abbigliamento della moto Io c'ho già delle robe, però siccome qua a Milano non so da voi fa freddo Anzi stamattina c'era anche nevistio Allora ho pensato di comprare qualche cosa in più per andare in giro Anche perché comincia a fare veramente, veramente freddo E adesso apriamo qui Quindi farò un Apple Blog totalmente dedicato a... Alle moto oggi Ragazzi non mi venite a dire cosa c'entra l'Apple Blog oggi Non era una cosa... non era un Apple Blog Ma è solo perché oggi voglio dedicare, siccome mi arriva la moto nuova Voglio dedicare il Blog alla mia moto E comunque agli appassionati di moto Allora Apriamo il pacco Ok Cosa ci troviamo dentro? Allora Allora, questo è un tubo Fascia per la gola In viscosa Che tiene la temperatura da meno 5 a 20 gradi In realtà minchia c'è un tessuto paura ragazzi C'è una roba... Ci sta Poi Eccole qua Le famose wheel strips Sono le... Ti dice anche come applicarle Profilo cerchio Applica il profilo in quest'area C'è anche il profilo Che cos'è sto profilo? Boh, sono le strisce adesive per la moto Quelle che metti di troppo sulla ruota Le ho prese gialle Gialle, gialle, gialle La moto è nera Non vi dico che moto è però Poi Allora Maglia Un tessuto E' elasticizzato Che tiene il caldo E non fa sudare Antimacchia Maglia apposita Non lo so La taglia è unica Stessa cosa anche il sottopantalone Che io mi sono Certo di inciringis Ma fa un freddo voglia E infine Una roba Gigantesca Non pensavo fosse così Ma sono i pantaloni Da pioggia Da mettere E sono i soprapantaloni Da pioggia Adesso Ci vediamo Subito dopo Perché Andiamo a ritirare La moto Ciao ragazzi Seconda parte del blog E finalmente Non si vede una minchia E' arrivata La moto Non si vede niente Ma è nera Due e mezzo Un marmittone Non si riusciamo a farla vedere così Ragazzi non si vede una minchia Che merda sto iPhone Oh vabbè Quando c'è più luce Sarà meglio Ma in sostanza È una figata Assurda Mi farò un terzo Come fanno tutti quanti Delle foto domani C'è un santino Sbillissimo Ok Quindi ragazzi Domani con un Un nuovo Un nuovo dettaglio Almeno ve lo farò vedere meglio Stupenda Ciao